Uffa, 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 qualcuno ha chiamato pigro, me? Sì, t'ho chiamato io, però posso dirti una cosa, tu sei un supereroe, tu non puoi essere pigro! Scusa, Batman era misterioso, e questo ci si sa, Robin era stralunato, e questo ci si sa, io subito... Oh, lei aveva le mani rosso, ma come ti permetti? Io so pigro, ma tu sei per me lo sai, e questo ci si sa, perché sei qui, dai, dimmelo! Sono ancora una volta qui per dare la possibilità, tutti coloro che vogliono essere salvati, uffa, di chiamare al mio solito numero 081, uffa! Uffa, uffa, vabbè lo conosciamo tutti, però non so perché, ma ho la sensazione che stasera nessuno ti chiamerà! Beh, se arriva, l'accogliamo! Non l'ho chiamato! Non l'ho chiamato, ma che lo chiamato a fare, pigro! Come il gatto è... Dai, rispondi! Pronto, pigro, man? C'è un battello da recuperare a pallinuro! Sta qua vicino, dai, non è... A pallinuro! A pallinuro! No! Sai che... Prendi la Salerno Reggio Calabria, tu l'hai mai presa? Sì! Già se arrivi a Salerno sei un supereroe! Vabbè! Eh, scusate signora! C'è esagerato! Esci a battipaglia! Fatti alto traffico poche fa! Stai a battipaglia? Dico io, non assaggi la zizzona di buco! E tu hai ragione, buonissimo! Io una volta l'ho mangiata tutto in dieci minuti, è venuto un mal di pancia, ma ho resistito! E perché? Trova un bagno, vedi se è pulito, metti la carta per non toccare, chiama tutti i numeri sul muro perché la curiosità c'è, è questo! Ci si sa! Vabbè, dai! Signora! Sì! Avete detto che ho un battello? Chiamate l'uomo ragno! Quello butta due reti e lo recupera! E io non vengo proprio! Signora! Uffa! Ma che uffa è uffa? Vuole fare il supereroe lui! Senti, Pigromen, vediamo se c'è per caso un altro telefonato, altrimenti sparisci subito, all'istante! Se arriva, l'accogliamo! Ancora! Compro il balletto! Basta! Pronto, Pigromen? C'è un topolino da salvare sotto una lavatrice! Il topolino l'ha salvato! Sotto la lavatrice! Sotto la lavatrice! No! Valla, abbassati e vedi se il topo sta ancora là! E mica aspetta a me il topo! Scusa! Alzati, aspetta il bucato, sposta la lavatrice, quelli il topo scappa, perdi una giornata appressa al topo! Calmate! No! Signora! No signora, nessuna trappola! Fatemi parlare a me! Ah, il topo è maschio o è femmina? Ah, è femmina! Ah, è femmina! Allora, state a sentire a me! Prendete 100 euro e mettete proprio fuori la lavatrice! Come? Perché quello è il topo femmina! Quando vedi i soldi, si precipita, signora! Ma non è... Così non capate! Ma non è... Ma che fai e fa? Si scoccia pure! Ma che da noi? Dai! E adesso sigla! Ma che c'entra la sigla? Non lo so, ma mi piace! Vai super friend! Ehi! 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 Ma fare nessuno! Va bene! È fatto così il nostro pigro, amene! Vabbè, ma da un supereroe...